Buongiorno a tutti, la redazione di Lega Nerd è qui a Lucca Comics del 2019, siamo qui allo stand della Warner, adesso giro la camera e vi faccio vedere un po' tutta la roba che c'è, c'è un sacco di roba come tutti gli anni, una fila chilometrica, mega filone, super filone e noi salviamo il filone, aria dedicata a Jumanji, punto foto, fighissimo, qui se volete mettervi il cappello, un macete, il cannocchiale per fare un po' di fotine, super anaconda Angolo dei 25 anni di Friends, divanone, la tazza ed è subito Friends Questa invece è una piccola cameretta da bimbi, collaborazione dei choc con i funko pop o fanco, va bene, Batman, ricordiamo che sono sempre gli 80 anni, per cui questo è, il gioco di Game of Thrones, quelli sono i premi, fighissimi, qui avete tutte le casate, esatto, e dovete posizionare questi dischi nel punto di nascita delle diverse casate, io non gioco perché non ne voglio, ma soprattutto non gioco perché non me le ricordo, per cui questa è la piantina e quelle sono tutte le casate, tosto eh, molto hardcore come gioco questo, e qui c'è anche la presentazione dei due giochi, il gioco di Game of Thrones, Game of Thrones Conquest, Molto bene, questa è la parte più carina, Greenscreen, Valentina, Greenscreen, Vultanas e Seishebs, Beard of Ray, qui vi fate una foto insieme a Harley Quinn e le Bop sul divano che scimmiotta un pochino, il divano di Friends, dopo ve la faremo vedere, e a nessuno frega una merda secca, là c'è la parte fighissima che però non so se riusciamo a entrare, vediamo se riusciamo a entrare a grabare questi Regas, questo è un po' inquietante, che si muove, si venga, movimento, socialmente per terra, qui c'è un po' di horror, un po' di roba brutta, un po' di foto terribili e a ha detto di Dio, vutana si è strippo, vutana si è strippo, vutana si è strippo, vutana quegli occhi anti panni, oh me ne vado, sono un po' inquietato, vutana si è brutta la bamba, molto bene, mi sono cagato sotto, Grazie a tutti.